Stavo pensando, ma quali sono i sentieri più belli in Toscana? Boh, fammi pensare. Ciao, benvenuti in questo video. Per chi non mi conosce, sono Marco, un appassionato di mountain bike che abita in Toscana e che ama girare un po' in tutti i sentieri di questa splendida regione. Da un po' di tempo stavo pensando di creare una sorta di raccolta, non voglio dire classifica, ma dei più bei sentieri di questa regione da percorrere con le nostre mountain bike, sentieri induristici, ma non solo. Mi piacerebbe condividere con voi questa lista di sentieri più belli e inizio a mettere i miei. Cinque dei miei sentieri preferiti. Non è una classifica, ovviamente ognuno avrà i suoi gusti, quindi aspetto nei vostri commenti chi indovina questi cinque sentieri e in quali trail area sono. E magari, se vi fa piacere, inserite i vostri personali cinque migliori sentieri, che così li condividiamo insieme. E magari, se vi fa piacere, inserite i vostri personali sentieri, sulle caratteri, inserite i vostri personali selvittori, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Indovinate e ovviamente iscrivetevi così condividiamo insieme la nostra passione. Ciao! 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 Ciao!